Alcuni toni non li ho per nulla condivisi, alcune cose dette e anche l'uscita dall'aula non mi possono che trovare assolutamente consensiente, però trovo invece utile lavorare tutti insieme compreso me perché si possa creare un miglior clima tra maggioranza e opposizione. Io credo che l'anno nuovo deve cominciare con un, intendo dire il 2018, con un metodo diverso, migliore e più proficuo tra maggioranza e opposizione. Non mi piacciono le considerazioni che vengono fatte sulle commissioni, le commissioni devono lavorare meglio, la maggioranza deve dialogare di più con l'opposizione e l'opposizione deve dare un contributo maggiore all'interesse della città e non pensare sempre di stare in campagna elettorale. Io mi impegnerò sicuramente perché si possa aggiungere a una dialettica più proficua, più leale e anche meno astiosa tra maggioranza e opposizione. Su questo sicuramente ci lavorerò, per il resto abbiamo approvato delibere importanti. Noi lavoriamo nell'interesse della città, il Consiglio Comunale verso il luogo in cui ci si confronta per dare risposte alla città, per portare a casa obiettivi importanti e a questo deve servire il Consiglio Comunale che è il luogo della rappresentanza dei cittadini. Quindi è importante anche la proficuità del lavoro del Consiglio, che si producano delibere.